Questa è una scuola che ha una dozzina d'anni ormai, quindi non è una scuola estemporanea, è un'istituzione che si costruisce nel corso del tempo, a cui hanno partecipato molti protagonisti, ne cito almeno due, dovrò se citarle, il professor Silvio Campino, che è stato il primo direttore a lungo di questa scuola, che ha il peso, diciamo, l'andatura, il ritmo alla scuola, a cui succedono il professor Guilio D'Ignazio, che anche lui ha continuato da varie postazioni, diciamo, il rafforzamento della scuola e poi da poco tempo, diciamo, sono io a dirigere questa scuola e che coincide anche con il fatto che questa scuola è diventata una scuola del Dipartimento, del Dipartimento di Scienze Comunica e Sociale, ormai è organica all'istituzione del Dipartimento. Fa molte cose la scuola, la cosa principale è quella della formazione superiore, diciamo, come sapete, i cicli ormai scolastici si sono molto articolate e una componente, un segmento importante che è nato questo nel nostro paese, non solo nel nostro paese, è quella della formazione post-universitaria, che non è una continuazione in senso banale delle cose fatte in università, ma in primo un'altra accelerazione, un'accelerazione più orientata verso la professione, verso il mondo del lavoro, ovviamente la formazione accademica standard, la formazione più a formare coscienze critiche, a dare categorie per interpretare come fa tutto il mondo e per caratterizzarlo, questa formazione qui che noi eroghiamo alla scuola, cioè molto più vicino al contesto professionale, al contesto lavorativo, e quindi forniamo categorie analitiche, strumenti per l'azione. Stamattina presentiamo due master, poi ne faremo anche altre, faremo molte altre attività, non solo queste sotto forma di master, sono i due master, diciamo, un po' più di bandiera, diciamo, della nostra scuola. Il primo è quello del management dell'amministrazione pubblica che tende a fornire il profilo, quello di fornire quadri per la pubblica amministrazione, quadri innovativi naturalmente, non quadri standard, ma quadri che abbiano, come dire, che sappiano lavorare in rete, che sappiano mettere a valore le competenze interdisciplinari che costruiamo nei nostri profili formativi. L'altro è quello che si occupa del lavoro, dentro il lavoro, e anche qui è un master, anche questo, interdisciplinare, ma caratterizzato in modo diverso, ha una caratterizzazione più, come forse, verso il mondo delle relazioni industriali, verso il mondo del nuovo mondo, diciamo, perché anche qui la formazione che serve ai nostri corsi sono formazioni, diciamo, di carattere accademico, ma non accademico particolare, diciamo, che guarda anche ai profili diversi delle discipline che servono in un mondo così articolato e differenziato, quindi diciamo, sono delle persone, quelle che escono dai nostri master, dopo 1500 ore che stanno con noi, o in modo diretto o in modo indiretto, diciamo, molto lavoro in aula, molto lavoro anche fuori aula, è quello di provare a formare dei quadri, dei quadri professionale o dei quadri amministrativi, diciamo, che in qualche modo innone in modo di fare professione e in modo in modo di fare amministrazione, diciamo. Questa è l'ambizione dei nostri master, diciamo, non soltanto di fornire nuove figure professionali, ma l'ambizione è formare persone che a loro volta trasformano il mondo dove si collocano. Questa è la differenza di un nostro master in management, un nostro corso in diritto del lavoro rispetto a un altro, qualsiasi altro master non accadente, che si va pure da qui, e il di più, il plus che noi ci mettiamo è questo, l'idea è che creiamo delle figure che poi a loro volta, immesse nei profili professionale, nel mondo professionale, immesse nella pubblica università, le amministrazioni riescono a trasformare il modo di lavorare, e il modo di fare professionale, perché è un mondo, come lo sapete, molto in un'evoluzione, quindi la nostra visione è di produrre figure dinamiche, figure trasformatrici del resto, diciamo. Perciò chi viene qui e perciò incoraggiamo molto, fa un'esperienza particolare rispetto a master standard, diciamo. Fa un percorso formativo che, come dire, che in qualche modo lo metta al centro di un processo di trasformazione sia professionale che accademia. Questo è quanto. Adesso forse i due direttori di master possono aggiungere delle cose specifiche, che in qualche modo lo metto e questo è quello di Enzo. No, Enzo, prima Enzo. Sì, qualche indicazione di carattere più generale da parte mia, poi magari il professor Fonte potrà entrare un po' nel vivo e dare qualche indicazione proprio sull'articolazione delle attività, sui moduli e quant'altro. A livello generale, quello che mi sento di sottolineare, devo dire in perfetta sintonia con quanto stava poc'anzi dicendo il professor Cessosimo, che questo non è un master soltanto in diritto del lavoro. E' significativo che si intitoli master di secondo livello, in diritto del lavoro, welfare e servizi per il piede. Abbiamo tre aspetti, tre elementi del mondo del lavoro che spesso vengono trattati in maniera separata. Ad esempio tutte le politiche di welfare che fanno riferimento non soltanto alla previdenza sociale, ma a tutti gli aspetti della sicurezza e del benessere nei luoghi di lavoro, diciamo che nella maggioranza dei master universitari giuslavoristici vengono tenute un pochino in disparte. Invece noi puntiamo molto sull'aspetto del welfare perché riteniamo che sia anche quello che la società del futuro aspetta. Non siamo più in un mondo del lavoro che si possa gestire soltanto sulla base delle regole giuslavoristiche, ma è necessario che il diritto del lavoro abbia un confronto sul territorio, nella società, che le politiche di welfare vengano interiorizzate anche su un piano non lavoristico. È necessario che il diritto del lavoro, che come tutti sappiamo è un po' il fondamento dell'ispirazione valoriale della nostra Costituzione Repubblicana, si apra oggi sempre di più verso politiche anche di sostegno della povertà finalizzata a combattere le disuguaglianze. Il lavoro da solo non basta, il welfare è un momento importante perché è un momento di costruzione della società, ma qua ci sono illustri sociologi e io non faccio altro che riferirmi a loro quando parlo di queste cose. E poi ci sono i servizi per l'impiego, questo direi che forse è la vera novità del nostro master, perché come ci potrà riferire il professor Conte, noi abbiamo un rapporto diretto con la direzione territoriale del lavoro, coinvolgiamo gli ispettori del lavoro, consentiamo ai nostri masterizzanti di avere un confronto con le agenzie, le istituzioni pubbliche che si occupano dei servizi per l'impiego e quindi del problema della disoccupazione che evidentemente non può essere riguardato soltanto in un'ottica peraltro politicamente attuale di reddito di cittadinanza. Quindi nell'ottica proprio di un superamento di certe strettoie che si stanno vivendo, superamento che è fortemente avvertito anche nell'ambito delle istituzioni, il nostro master cerca sempre, ogni anno, di avere delle novità, di inseguire quelle che sono le esigenze sociali, quindi mi sento di dire che il successo che fino ad oggi ha avuto il master potrà, ritengo, continuare ad averlo, perché è sempre aggiornato, è sempre all'inseguimento di quelle che sono le esigenze che emergono. Non so se Flavio vuole intervenire per dare qualche dettaglio. Forse non funzionano i microfoni. Ah, non so, però sentono lo sento. Vabbè, si sente ugualmente. Sì, grazie. No, so, alcune informazioni specifiche, intanto anche io ringrazio il direttore per l'ospitalità e per averci consentito di presentare la nostra offerta anche quest'anno e mi fa piacere che siano presenti anche il direttore Japs e il professore Costabile perché a proposito di quello che diceva Enzo, a me vengono in mente sempre, quando parliamo dei temi del lavoro, del welfare, le lezioni di Reineri, che risalvano ormai a vent'anni fa, autore di un felice manuale di sociologia del lavoro, che parlava dei tempi di vita e dei tempi di lavoro come di un tema di frontiera. Oggi viviamo probabilmente nel periodo storico più teso e più complicato dal punto di vista della coniugazione dei due temi. E poi mi vengono in mente le famose trappole del welfare di Ferrera che abbiamo ospitato pure qui nella scuola e le riflessioni che si facevano a proposito dei sistemi pubblici e privati di sostegno di chi lavora e di chi non lavora. L'offerta va in questa direzione, cioè cerca di coniugare e sapere le conoscenze e le competenze che riguardano le relazioni industriali, l'etica del lavoro, la sociologia del lavoro, il mercato del lavoro, con gli aspetti più tecnici, più tipicamente giuslavoristici. Si svolge l'attività su dieci moduli e questi dieci moduli abbracciano un po' tutto quello che è il mondo giuslavoristico, quindi partendo dall'etica finendo fino alle tutele giurisdizionali e amministrative con un particolare approfondimento anche delle tematiche relative al pubblico impiego. In particolare abbiamo tre moduli che sono dedicati alle pubbliche amministrazioni da trici di lavoro, seguendo anche un po' quello che è l'input della scuola che si rivolge istituzionalmente anche al mondo della pubblica amministrazione e c'è poi un modulo specificamente dedicato alla dirigenza pubblica che è una figura particolarmente importante e centrale nel governo delle relazioni industriali, sindacali e delle relazioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Lavoriamo in collaborazione con dei gruppi di ricerca collaudati, Università Sapienza di Roma, Perugia, Napoli Federico II, Magna Grecia di Catanzaro, con gli ordini professionali, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, in particolare con gli avvocati giusti lavoristi italiani che ci hanno una grande mano nello svolgere le attività didattiche e poi abbiamo una stretta collaborazione con gli enti pubblici che si occupano del fenomeno lavoristico a 360 gradi, quindi l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Inps, sia la sede provinciale sia quello regionale, l'INAIL che stiamo cercando di coinvolgere sempre di più e le altre amministrazioni che si occupano di vigilanza o di mediazione tra domande e offerta, quindi i centri per l'impiego, l'AMPAL e le amministrazioni a queste collegate. Per cui l'offerta didattica cerca di intercettare il bisogno che chi si rivolge alla scuola superiore e avverte di conoscenza, di acquisizione delle conoscenze e delle competenze su tutta la tematica giusti lavoristica. Bene, grazie. Professor Giannano Micepani. Grazie, grazie anche io, mi associo a ringraziamento al direttore per l'ospitalità e per averci dato l'opportunità di conoscere questi master. Il master è il management delle pubbliche amministrazioni, già dalla denominazione si intuisce l'oggetto e a questo riguardo occorre una preliminare precisazione nel senso che il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha da ormai tantissimo tempo inteso lavorare su una delle criticità che rappresenta e che caratterizza il sistema Italia e in particolare quello meridionale che è appunto rappresentato dalle pubbliche amministrazioni. Il master completa la filiera formativa che già offre il Dipartimento approfondendo quei temi che già nella triennale e nella specialistica in qualche modo sono affrontati. Dunque in quest'ottica il master che ormai nasce con la scuola, questo master, 12 anni fa, vuole proseguire in quest'ottica di aggredire questa criticità e lo fa in questa annualità, in un contesto profondamente rinnovato, in un contesto quello drammatico dell'emergenza pandemica che però ha anche dei risvolti positivi, a partire dall'acquisizione della consapevolezza anche nell'opinione pubblica dell'importanza delle pubbliche amministrazioni. Su questo lavoriamo tanto, anche qualche giorno fa c'è stato a mio avviso un ottimo convegno, in cui era presente anche Barca, perché c'è questa consapevolezza di dover dare un contributo al miglioramento delle pubbliche amministrazioni. Ecco, nuovo contesto, necessità rafforzata di migliorare il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e su questo socco si inserisce in una linea di continuità il master, che cerca evidentemente di cogliere le innovazioni che provengono non solo dallo Stato italiano, ma soprattutto dall'Unione Europea, e dunque un master in un nuovo contesto che in qualche modo va seguito, va avallato con offerta formativa e anche l'Università della Calabria vuole dare il proprio contributo a tal fine. Si tratta di una promozione questa, quindi è anche bene ricordare che finalmente in quell'ottica di acquisizione della consapevolezza si sono allentate le maglie anche nell'assunzione del personale sulla scorta di una serie di iniziative europee, ci aspettano sfide per le pubbliche amministrazioni di fondamentale importanza, quella dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza è una di queste sfide e da questo punto di vista ovviamente è necessario potenziare non solo da un punto di vista qualitativo le pubbliche amministrazioni, ma anche da un punto di vista quantitativo. Sono stati riaperti i concorsi pubblici per intenderci, dopo tanto tempo. Quindi il master oltre che offrire la possibilità di acquisire un titolo in sé, che pesa nelle selezioni pubbliche, mira anche a contribuire a quel senso di innovazione a cui faceva riferimento il direttore e cui noi cerchiamo di dare, rispetto al quale noi cerchiamo di dare il nostro contributo, cioè formare non solo per rilasciare il titolo, ma formare anche per innovare nelle pubbliche amministrazioni. Ovviamente questo master non ha il solo fine di formare e di migliorare le performance dei dipendenti già pubblici, oppure di contribuire alla formazione per accedere in maniera più agevole alle selezioni della pubblica amministrazione. Questo master ha anche un'altra finalità, quello di formare consulenti, quello di formare consulenti che possono offrire i loro servizi sia alle imprese sia anche alle stesse pubbliche amministrazioni. Quindi diciamo una pluralità di destinatari che ha fatto di questo master, negli anni un master possiamo definire di successo. Ora si tratta appunto di cogliere questa opportunità e noi vogliamo starci dentro, vogliamo starci dentro con la consapevolezza che negli anni il dipartimento e la scuola hanno puntato su questo settore. Nella consapevolezza che le innovazioni anche nelle pubbliche amministrazioni richiedono un sapere plurale, un sapere plurale fatto da conoscenze specialistiche, tecniche, e a questo riguardo il master prevede due aree tematiche in ambito giuridico e più tecnico, in particolare l'amministrazione, tutto il tema del contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, altre criticità, quindi la formazione serve anche per prevenire questo contenzioso, ma oltre a questo modulo c'è un altro modulo più economico-gestionale, diciamo in un'amministrazione che ormai deve guardare soprattutto i risultati, non però trascurando gli aspetti formali, è necessaria anche l'aspetto della valutazione, della managerializzazione, quindi in questo senso miriamo a formare dei manager che abbiano competenze plurali, ma ovviamente oltre a ciò sarà entrato in un'altra area tematica un modulo più di natura informatica delle amministrazioni digitali, sempre nell'ottica di cogliere le opportunità a cui facevo riferimento poc'anzi, infatti ci sarà un modulo destinato alle amministrazioni digitali, quindi in linea con la prefigurazione di una transizione digitale che ovviamente dovrà riguardare anche le pubbliche amministrazioni. Quindi un master che prevede un'offerta formativa variegata, rispetto alla quale mi pare anche doveroso sottolineare che ci sono delle borse erogate dalla Formap e c'è la possibilità anche di fruire dei voucher regionali, ovviamente nel rispetto dei requisiti che la regione indicherà. Quindi l'invito è a non disperdere questa opportunità e a fare in modo che in una crescita collettiva della nostra coscienza civile ognuno di noi potrà dare il contributo alla crescita della società mediante le pubbliche amministrazioni. Grazie. Sì, poche parole per raccontare che 12 anni sono stati lunghi ma hanno creato expertise. L'expertise un po' già citata anche da collega Bonte riguarda sia un rapporto strutturato e anche secondo me fidelizzato con tanti studenti che sono entrati in queste aule, sia per questo master sia per quelli aggiuntivi nel corso di 12 anni. Calcoleremo almeno 300-400 persone che hanno seguito le aule, i corsi in aula, hanno seguito le attività e molti di questi, non il 100% ma quasi, hanno acquisito il titolo che è un titolo da 60 CFU. E poi c'è un expertise accumulato grazie agli uffici, grazie ai tutor e a tutto lo staff dei docenti che è abbastanza alaccio nel lavorare nelle due fasi del master, proprio sui tirocini e i rapporti con gli enti che sostanzialmente completano la seconda parte del master, e danno anche un profilo di arricchimento esperienziale al di là dell'aula e che si completa con l'aula. La formula che abbiamo scelto la diciamo per chi non la conosca, la formula weekend, la distribuzione in 12 mesi, venerdì e sabato, si è verificato nell'esperienza che chiamare in aula persone che lavorano il mercoledì e il giovedì è più problematico, la tutor ci può confermare. Sui contenuti tutto vero quanto abbiamo detto, il piano didattico del master è di grande chiarezza, io non credo che ci siano master molto più chiari del nostro in Italia rispetto ai contenuti che l'aula offre e anche le modalità di fruizione della fase 2 e poi della fase 3, è tutto molto misurato. Io direi che nei contenuti, dopo anche 12 anni di esperienza, l'innovazione era all'origine e a tuttora, è stato ribadito dal direttore della scuola, l'obiettivo formativo di questo master che non è un solo consolidare esperienze manualistiche, conoscenze manualistiche, ma anche incitare sulla base della conoscenza manualistica e anche settoriale, scientifico-didattica erogata, forme e ipotesi di innovazione. D'altra parte la pubblica amministrazione sulla carta sta sperimentando innovazioni amministrative dagli anni 91-92 in poi, lo ricordo non ai colleghi ma a chi ci segue per altre vie che i cicli dell'innovazione e delle riforme amministrative siano 5, noi al momento stiamo vivendo la quinta fase ipotetica di riforme amministrative dentro il PNR, sono state citate, tra cui c'è anche la giustizia e altri settori, ma la pubblica amministrazione è la chiave di volta per spendere bene i soldi comunitari, avevamo avuto 30 anni fa le riforme cassese, dal 93-94 si privatizza il rapporto di impiego e anche le modalità d'azione di tanta parte della pubblica amministrazione, poi c'era il passaggio riforme Bassanini 7-8 anni dopo, mediamente 8 anni è il ciclo che si distribuisce tra una riforma e un'altra, poi dopo il 2008 governo Berlusconi, ministro Brunetta fa un tentativo di riforma che anche nei rapporti pubblico-privato, mercato-sindacati e anche privatizzazione ha un impatto che non è stato quello poi previsto dalle legislazioni ma comunque c'è stato, di fatto poi col blocco del turnover sono stati passi indietro dal 2008 al 2019, diremmo fino al 2020 e poi il tentativo Madia che ha fatto una teoria di leggi e decreti oltre 40-50 che hanno portato innovazione nell'organizzazione e nell'attività amministrativa delle amministrazioni e da ultimo il PNR che è un po' per molti di noi ma per tutto il paese la prova di forza se esiste la pubblica amministrazione e se ovunque la pubblica amministrazione ha capacità di spesa, di organizzazione e gestione dell'attività ordinaria ma soprattutto della progettazione straordinaria, cioè fondi aggiuntivi e fondi da spendere nei vari settori di transizione digitale, transizione sociale, transizione economica. Credo che questo master per chi lo potrà frequentare, speriamo che sia una classe di 20-30-40 persone, questo è l'ideale di una classe di master come abbiamo sempre fatto negli anni, mediamente 35-40, quindi in tutti i suoi aspetti, le elezioni, i tirocini, i progetto work e anche il paper finale che si va a discutere davanti a una commissione perché bisogna dare la prova anche di saper scrivere qualcosa sulla innovazione amministrativa, insomma credo che sia un investimento che molti ragazzi o uomini anche più grandi e maturi con un background lavorativo anche di 10-20 anni alle spalle possono seguire perché è noto che non esiste la formazione nella fase giovanile e poi l'abbandono e la vivere d'inerzia ma esiste la long life learning e questi master sostanzialmente lavorano per la long life learning. Abbiamo avuto molti studenti, molti iscritti ai master che avevano ampiamente superato l'età dei 40-50 e quelle persone ci hanno sempre detto che ne traevano grande beneficio dalla frequenza ai nostri master. Direi in bocca al lupo a tutti e a direttori, a tutto il corpo docente e anche al corpo amministrativo. Grazie, grazie. Allora se ci sono domande o insomma volevo fare delle curiosità o veramente aggiuntive, la cosa che volevo ricordare, non sono state ricordate ma insomma è ovvio, lo trovate sul bando, per iscriverci e temo fino al 30 novembre. Quindi, affrettatevi. Stiamo cercando, come hanno detto i direttori e i coordinatori, stiamo cercando persone curiose, persone di lavorare in gruppo qui da noi, nella scuola. La scuola è molto bella, troverete una grande accoglienza, una scuola calda questa, delle bellissime aule, curiamo moltissimo anche la logistica, poi troverete delle tutor, diciamo, che vi accompagneranno tutto il percorso. Quindi, la cura della scuola, come uno degli allievi è molto, molto, insomma, molto, siamo molto attenti a curare il rapporto con i singoli allievi e con tutta la classe, diciamo. Quindi è un progetto di costruzione collettiva della formazione dell'apprendimento. Prendiamo, come avevano detto i direttori e coordinatori, il meglio che offre l'Accademia Nazionale. Non è un corso fatto soltanto da studenti, da professori dell'Università della Calabria. Nessuna università, nessuna istituzione ha tutto, diciamo, al proprio interno, ha tutte le conoscenze e il meglio delle conoscenze disponibili dell'offerta. Quindi, come dire, ci approviggiamo di colleghi e colleghe di moltissime università italiane. Proviamo a prendere il meglio per i nostri allievi e quindi, diciamo, non risparmiamo a nulla su questo, diciamo. Quindi chiediamo, vi invitiamo a venirci a trovare. Prima del 30, perché no? Venite a farci una visita, venite a conoscerci, vi faremo vedere come la scuola è organizzata, diciamo. Quindi aspettiamo anche quest'anno, come gli altri anni, molte domande. Entro il 30 novembre, ripeto, troveremo delle persone che già lavorano o persone che vorrebbero lavorare in questi due ambiti, l'ambito del lavoro, del welfare, e nell'ambito della pubblica amministrazione, sia come, ricordava prima il direttore del Master, sia persone che già lavorano, ma sia persone che vogliono lavorare in quei contesti, diciamo. Quindi ne aspettiamo in tanti qui e speriamo di incontrarci presto, naturalmente, sia come curiosi di capire che qual è l'offerta e sia persone che invece hanno già deciso, modulato l'idea di scriverci. C'è raggiunto nel frattempo anche l'attuale direttore del Dipartimento, Professor Ramione, qui, pronti per eventualmente approfondire le cose che sono dette. Va bene così? dando il nostro operatore a far vedere tutto, la platea. Ok. Se non c'è altro possiamo finirla qui, possiamo chiudere questa conferenza. Volete aggiungere qualche altra cosa che c'è sfuggita? 30 novembre, iscrizione, poi l'immatricolazione verrà il 15 dicembre, una volta che si arrivi quasi diventa studente a tutti gli effetti dell'Università della Calabria, tutti i benefici che offre il campus a tutti, diciamo. Quello che dobbiamo ribadire è che ormai è l'esperienza da 12 anni che tutti coloro che hanno frequentato proficuamente i nostri master e che quindi hanno conseguito i titoli, poi li hanno potuti spendere nella pubblica amministrazione in maniera veramente proficua. Quindi c'è proprio un'esperienza in tal senso, perché non vendiamo aria fritta, questo è bene dire. Invece questi master sono in grado di supportare non soltanto l'acquisizione di conoscenze essenziali, importanti, ma metterle a frutto anche da un punto di vista proprio operativo. Quindi abbiamo tanti esempi di persone che sono uscite dai nostri master che hanno avuto in virtù del conseguimento dei master opportunità importanti nell'ambito della pubblica amministrazione e questo va ad amplificarsi, per quello che diceva prima il professor Gervasi, con il PNRR partono i concorsi e i master danno dei titoli che sono importanti ai fini proprio concorsuali, per cui credo che se è stato fino ad oggi proficuo il contributo che i nostri master hanno dato al mondo del lavoro, soprattutto con le pubbliche amministrazioni in Calabria, lo sarà ancora di più alla luce dei bandi che saranno pubblicati, perché uno dei più edifici di Bonetta è che bisogna valorizzare i titoli culturali e i nostri bandi sono quando di meglio si possa offrire sul piano del mercato del lavoro, quindi questo mi pare opportuno sottolinearlo perché, ripeto, non è solo un'aspettativa, l'aspettativa è di incentivare questo effetto che però già si è verificato in passato e quindi noi riteniamo che come è stato in passato sarà a maggior ragione alla luce delle novità che sono indotte dal PNRR nei prossimi anni. Infatti la stima che si fa è che entreranno finalmente nella pubblica amministrazione una cosa come 500-600 mila nuovi dipendenti, quasi il 20% dell'attuale organico della pubblica quindi non soltanto un fatto quantitativo, il fatto che ci sono occasioni finalmente per lavorare una pubblica amministrazione che è ferma da moltissimo tempo con il blocco del tornore ma soprattutto c'è la possibilità di cambiare la pubblica amministrazione, quindi ha maggior ragione con il master. Il nostro è anche quello degli altri che lo fanno, cioè trovare come dire personale avvertito, capace, in grado di lavorare in rete con la prospettiva che il cambiamento avviene anche sul proprio posto di lavoro, perché le società, soprattutto le società in ritardo come la nostra regione, possono avere una grande spinta da queste missioni di giovani, di lavoratori con una nuova formazione a rete, una formazione molto più completa del passato, è una cosa straordinaria. Tra l'altro, questo lo dico, insomma, può essere un'informazione utile per chi ci sta ascoltando e vedendo, noi offriamo un servizio di master a un costo relativamente contenuto rispetto agli altri master. Un master simer fatto in una struttura accademica del nord costa almeno 4-5 volte il costo di questo master, proprio perché noi sappiamo che siamo una regione che ha difficoltà, perché lavoriamo in istruzione che deve contribuire al cambiamento, all'innovazione, manteniamo il costo del master a un livello, quasi un costo politico, possiamo dire 3.000 euro. a prezzo di costo. E se vuoi soltanto l'università, anzi, mette delle risorse proprie per garantire la formazione eccellente. Non ci si guadagna. Tutt'altro, ci rimettiamo, però è un servizio che noi dobbiamo fare, un servizio pubblico, quindi formiamo delle persone con il massimo livello a un costo molto congiunto. Peraltro questo costo, in alcuni casi, consideriamo anche una sorta di reatterizzazione per persone che hanno particolari difficoltà e, come dicevo, il professor Gervasi, abbiamo anche delle borse di studio che ogni anno eroghiamo da posta e forma per, e poi c'è la possibilità nei limiti delle disposizioni regionali anche di ricorrere a dei voucher. Quindi il costo è davvero contenuto relativamente da altri master, ma tutto ciò non significa una abbassamento dell'offerta formativa, anzi, diamo un'offerta sulla frontiera a un costo molto comune. Questo è un elemento che vorremmo incoraggiare ai nostri studenti, ai nostri laureati, ai laureati in generale, soprattutto alle persone che già lavorano, professionisti, dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, facciamo un corso molto adeguato alle aspettative e alla domanda innovativa che il nostro territorio esprima. Ok. Francesco, vuoi dire qualcosa? Giacomo, vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Una battuta? No, io, diciamo, a parte che non è molto elegante arrivare per ultimo e parlare. E quindi, diciamo, questa... No, io non posso che condividere le cose che hai detto in questo momento, quelle che avete detto, che immagino che hai detto perché sono discussioni che facciamo da tempo. Io credo sinceramente che nel mezzogiorno il tema della formazione della pubblica amministrazione è una delle grandi sfide per il Mezzogiorno e per il Paese. Da qui passano tante cose. Lunedì, forse ne avete parlato, abbiamo avuto questo bel convegno nel quale si è discusso anche di questo. Io spero che ci siano anche altre occasioni per discuterne. Il Master è un'occasione, si è usata questa espressione, comunità di pratiche, dove le comunità di pratiche si incontrano professionisti, dirigenti, funzionari, neolaureati. E quindi è un altro contesto formativo, un altro ecosistema formativo molto ricco. e noi come Ateneo, come Dipartimento, come Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione credo che su questa questione dobbiamo investire tutte le nostre energie al di là dei ritorni economici, energie che hanno a che fare con la centralità che la formazione continua ormai ha nei sistemi universitari. l'università non si finisce più con la laurea triennale e magistrale, ma è diventata una cosa la formazione continua. Poi avete parlato dei CAF probabilmente. Quindi anche trovare formule variegate di offerta formativa di alta qualità. C'è un problema di continua apertura anche ad altre tematiche. Lo stesso PNRR con tutte le enfasi sulle competenze, sul digitale, eccetera, sta dicendo che noi siamo costretti a rinnovare i contenuti dei nostri master ma forse anche a volte a pensare delle offerte ad hoc, no? Cosa che abbiamo fatto talvolta per esempio sui bilanci, sulla costruzione. Quindi forse su questo tema dobbiamo un po'. E c'è uno sforzo che riguarda ovviamente per noi tutta la filiera. Quindi io sono veramente contento, diciamo, del lavoro che è stato fatto negli anni scorsi perché credo che ci dia le credenziali e il credito per poter affrontare questa sfida che invece si sta dimostrando importante. La sfida dei prossimi anni sarà la sfida appunto della modernizzazione nella formazione dell'APA. Questo è uno dei grandi temi. L'Italia è stata sempre caratterizzata da grandi processi di innovazione che non producevano reali, poi riforme che non producevano reali processi di innovazione. Oggi questo mi sembra un passaggio delicatissimo. Peraltro perché c'è un problema di ricambio generazionale. Noi lo vediamo all'università, lo vediamo... Cioè arriveranno più giovani, speriamo, anzi, il PNR dovrebbe essere questa, il primo pilastro è proprio il reputamento, arriveranno più giovani e quindi credo che ci siano le condizioni per anche una maggiore cooperazione per esempio con il territorio, con gli enti locali, con le molteplici facce della pubblica amministrazione perché noi per esempio parliamo di pubblica amministrazione ma un altro settore interessante è tutto il settore del sistema giudiziario sul quale forse potrebbe essere anche interessante cominciare ad aprire un po' di dialogo. Quindi niente, io ci tenevo soltanto a dire questo e tra l'altro non è un caso che uno dei posti in questi anni dove mi sono divertito di più a fare lezioni era proprio il master perché gli stimoli che arrivano dal master sono ovviamente stimoli diversi e qualitativamente molto più impegnativi rispetto a quelli che noi magari affrontiamo normalmente nelle nostre lezioni curriculari. Tra l'altro i master sono anche un'attività importante nella nostra università che adesso la missione didattica, ricerca, c'è una cosiddetta terza missione e i master sono anche una grande occasione di terza missione di collegamento con la società locale. Un po' con famiglia poco fa c'era il nostro professore Antonio Costato che per l'appunto è il delegato della terza missione da Ateneo che svolge una funzione molto importante. Cioè le università devono aprire, devono contribuire, sono una parte di un complesso, di un puzzle molto più complicato dell'ecosistema per l'innovazione e della trasformazione e noi ci stiamo a tutto titolo in questa attività di terza missione. Già, poi ci vorrei dire una battuta, grazie. Una battuta, ci sono una battuta, lo diceva bene il direttore. Questa scuola con questi master completa rende ricco un ecosistema della formazione che è a disposizione di tutto il territorio, di tutta la regione. è un ecosistema, cioè lo studente, la studentessa che entrano qui sanno che hanno davanti una prospettiva di formazione lunga ma allo stesso tempo questi master sono aperti a tutti quei professionisti che lavorano già nella pubblica amministrazione come negli altri campi e che vogliono specializzarsi. Questo dipartimento in particolare si sta presentando sul territorio come il dipartimento del long life learning in qualche modo. Quindi proveremo anche a fare pressione sull'Ateneo perché ci siano forme di flessibilizzazione anche della presenza che ci permetteranno di avere sempre più studenti. Mi riferisco soprattutto a quelli più anziani che però necessitano di continua capacità e possibilità di aggiornamento delle proprie competenze. Grazie. Bene, grazie. Altro? Caffè pronto. Allora c'è un caffè per tutti. Dai, così ci salutiamo con un caffè. Grazie a tutti e a tutte e a prestissimo. Benvenite a studiare da noi. Grazie.